In questo momento vi trovate a 20 miglia, alla vostra sinistra c'è il confine con la Francia, alla vostra destra il confine con l'Italia. Se invece continuate a voltarvi, potete vedere il mare e sotto di voi i famosi scogli di cui per tanto tempo hanno parlato i nostri telegiornali. Tutti i migranti che prima erano a dormire qui, ora sono lì giù nel presidio permanente chiamato No Borders, gestito da volontari. Ed ora proveremo a portarvi anche lì. No, no, no. No, no. No, no. 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 No.